allora c'è il 31 del 30 novembre 2023 qui sotto c'è la segnaletica la freccia che indica il 200 metri crottacannone e praticamente si trova lì allora il tempo di percorrenza una persona normale diciamo 40 massimo 50 anni no dipende come lo senti in un massimo tempo percorrenza normale senza fatica piano piano con dieci minuti si arriva se poi proceda a passo veloce ci mette pure cinque minuti comunque sia il posto in gambevole suggestivo e ancora più suggestivo visitare la grotta cannone perché la grotta cannone oltre ad essere stata visitata e censita il gruppo spiegelo club di chiedi per quanto riguarda nell'ambito archeologico non c'è stato nessun intervento archeologico per fare i debiti di scontri alle croci che sono più di una croce che si trova all'interno della grotta a delle osse potrebbero essere anche umane e soprattutto scavi che qualcuno ha effettuato sicuramente abusivamente no no no